Parco schifo, questo è mio, va a far bagno a te Al Borgo, si vuole Ciao Nico Bella Sampa Oggi mi fa attendere, ma ci fa Sampa, lo so che ci faccio, lo sai che ci faccio apposta Kevin può giocare, mandami la richiesta all'amicizia Ok Leo, va bene Dete like, leake Mettete un bel leake Ai io Vai, vai, cagare Vai, cagare Impossibile inviare la richiesta all'amicizia Il dono, il messo, mi piace, grazie Sampa Condividete la live Che è assai importante Ehm, le sei là Che è assai 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 Parco rispesso Grazie a tutti Ok seriamente Double pistol Questa cosa che mi segnalano le cose è bellissima Tutto quello che mi succede mi segnalano È tipo la cosa bella del mondo Oh ilir Porca miseria quanto tempo Posso entrare? Eh si Ok? 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 Non è giusto questo o prende il legno pietra fatto il fatto ciao si è mutata ancora di più la ferita magari in rosa si è mutata non c'è un'arma buona non credo non credo c'è qualcuno qui si ci speravo di trovarlo molto bene ora si va a vincere chi è zoppi ah quella lì no 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 sei pazzo ti invito ti invito dopo Kevin jar c'è quella lì con gli occhiali tipo riccia con gli occhiali sono sicuro che non ti piace assai sicuro due amori che si incontrano Giorgi e Reca Reca tra qualcuno o sta fightando oppure sta costruendo ho visto costruzioni lasciate like no no dai io non ci credo mi stanno fightando e non poco lasciate tutti i like dai siamo e lei io non posso andare al mare no perché Massi non vuole perché diciamo le finali poi dice che ci fanno male e in caso se lo scopre se no si quando ho finito le finali ci potremo andare anche tutti i giorni se lo scopre ieri 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 No, perché dice che dopo ci sono le finali, forse ci siamo male, no, oh, ci andremo, che volevo di tanto. Ciao Bando. No, 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 no. No, tira le cuffie, ora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A che ora? Verso le quattro, tanto. No, 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 no. No, 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 no. V 250, quindi he'll… alle 5,50… alle 5,50… no, eh, alle 5,50 devo andare via. oh yes ma te ho detto adesso che non ci so l'allenamento è alle 6 che pirloide non c'è nessuno nel raggio di 30 km e guarda gente e ho visto George e non c'è nessuno porca no no dai non ci credo vado a prendere a posto tanto questo è mirato come non so non è vero non c'è nessuno Oh dai non ti credo Ah bene sono morto Ah bene sono morto Cristo ero quanta vita c'ha E vabbè c'è ancora un batteretto E vabbè se no non scassa le palle No vabbè alla fine Facciamo creativa Subito Se vedete che io sono freddo Perdo ma? Non c'è manco da fare i compiti Molto bene Perché? Non so non mi è entrato Oh non mi fa entrare E' incredibile Cioè ma non hai messo creativa Come no? Io sono in una partita normale E com'è possibile qua c'è creativa Lo puoi vedere pure nella live E' vero ma cosa? What the hell? Mamma mia che gioco Baggato schifoso Adesso è vedo creativa Adesso è vedo creativa Prima io ho coppie Cioè c'è la stessa roba le coppie Io alle 5.15 devo prendere l'autobus Perché mi chiama Roma? Mi chiama sempre Roma Porca miseria Non è che è lui? Quell'amico nostro Chi? Ma no ma l'ho richiamato E' tipo team Ma quella gente la Ma è tipo una settimana di fira Che mi richiamo E poi andiamo? Oh Nella mia o nella tua Allora vai a fare la cacca Ma non c'è andata Oh Arma mia destra sorda Avvio? Vai Quale era il mio questo forse? Sì Credo proprio di sì C'è qualche trappola da qualche parte? Sì Tutto così assai smancio Le cure si possono usare no? Eh? Sì dai Va bene Sluoro Prendiamo Va bene Ma questa qui non è la mia cessa Aspetta Aspetta c'è qualcosa che non guarda Ah devo cagare Devo cagare Dove ne faccio una Dopo vado a cagare Faccio veloce Dove devo cagare un botto Oro Ovvio perché era questa la mi Ovvio perché era questa la mia Ovvio perché era questa la mia no, 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 no no, no no te mi hanno fatto perchè mi potente mangiare mi devo andare sempre a c***** Che proino Ma è potentissima Questa arma È assai potente Che pro che sono Come lo posso uccidere Col barret Un po' innosco Oh Lezioni di Di noscope What the hell Non è possibile Ok Lo devi puntare Quello che ucciderai E E per uccidere Una persona Bisogna tenerla sotto Alla che poi Wow 392 In testa Una cosa veramente Incredibile Facile da fare Con gli amici Esercitatevi anche voi Prendete un amico Che deve fare la cacca Che c'è Un oscope Mamma mia Li stavo per beccare Attenzione Giochiamo a minecraft Dopo Ci sta un botto No aspetta Lo stavo per fare Un oscope Assai Smancho Attenzione Lui si butta Ecco il tiro Noo Raga 8 spettatori C'è uno che scrive in chat Porco Schifo Noo Tanto ci devo riuscire Bella Gerard Da Grezia Iscriviti al canale Lascia like Te lo dico Subito Che faccia tosta Per non farti uccidere mai Gerard Antonio Battista Divano Sono picchi Bella picchi Grandissimo Che dopo il provino Sei uno Dei unici Che si fa ancora vivo Grandissimo No No Adesso andiamo a giocare a minecraft Tra un po' Non avrebbe più Praticamente senso Fare entrare gente Facciamo tipo una vecchia live Perché una volta Facciamo solo live di minecraft Ma Non aspettate raga Non ho mai fatto una live di minecraft Io Io non ho mai fatto una live di minecraft Credo proprio di non aver mai fatto una live di minecraft Comunque iscrivetevi tutti Al canale e lasciate like Reo Quando hai fatto Porca zucchina Ma cosa Il colpo è lì La sua testa è qui Ti sei salvato Per un miracolo Ho 9 kg Adesso ci farò 10 No Ti ho ucciso 9 volte Ecco allora No Dai venga venga Molto bene Molto assai Maureni Yes Yes Ciao Oh What Questa 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 Faita è stata veramente interessante Adesso hai meno vita No Non Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Ok No 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 normale ma che si chiama quella roba dove noi ci facciamo i mondi Aternos Zizko il fake di Zizko no ovviamente sto scherzando no adesso no comunque iscriviti mamma mia oggi c'ho un po' in vostro però sono un po' scherzo questo si va bene ma non è possibile oggi è troppo è troppo ammira da quanto giochiamo a Minecraft? no bro adesso no adesso fammo l'ultimo un secondo non c'è più scelto un attimo non c'è più scelto mi viene che non mi ritorna su Sì, non è vero. Oh yes Ah 10 44 44 in testa Va bene Non ha senso questo gioco Dai fammolo ultimo Anzi fammo che arriva prima i 3 Rifamo un'altra sfida E poi non ho messo pure la nuova versione Quale? E' il tipo di soldi di bisogno Tipo del genere Pronto? No 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 Ok Vieni dai ritardeo Ma te sei ritardeo Cioè No Cosa è successo? Mi senti po' triggerato tutto Non so come Porca E' morto Si Vado 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 Non ci credo Non ci credo no 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 dai No 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 Oh no Oh ma perché Ma perché non costruisce Non capisco Cioè non l'ho più costruito Vabbè Sono scandalizzato da questo gioco Minecraft è meglio Cioè è fatto meglio Minecraft è fatto meglio Minecraft è fatto meglio La bottega di Verrocchio Fai un batto Un cicciotto Mamma mia no C'è una cappella sestina Ok Ok Aspetta che creo Creo il server La chiami su Discord La chiami su Discord La chiami su Discord La chiami yoga Eh dove mi si sta prendendo Dai non mi dica non mi si apre Io sto chiami Oh Gaba Oh, mi senti? Leo, non mi si apre il discord Allora email Entro con Google Dona, ci sei? Dona Ok, allora Il server Aspetta lei, però Non mi si apre il discord Quindi riavvio un secondo pc E basta